Il mio marito è partito che stava bene, se no non passava, che ne so, l'addestramento che hanno fatto un mese a Gorizia, perché se non era idoneo a poter partire a Saraglia, io credo che non partiva, non facevano nemmeno i vaccini, almeno non pensavo che siano così deficienti da poter partire una persona non idonea. Noi siamo figli dello Stato, siamo figli dello Stato perché abbiamo dato la nostra vita allo Stato, ci siamo arruolati da piccoli, 16, 17 anni, 18 anni, quindi lo Stato ci ha adottati e non ci ha difesi, non ci difende. Non abbiamo mai avuto neanche un messaggio che potesse indicare che dovevamo prendere precauzione. Noi come mio papà, come la moglie di mio fratello cerchiamo solo giustizia, almeno dicono effettivamente che loro lì è successo per l'uranio impoverito, anche se sarà una battaglia lunga, però noi vorremmo solo giustizia. 7 ottobre 2007, a Rosolini in Sicilia muore l'appuntato scelto Peppe Bongiovanni, aveva 43 anni ed era stato in Bosnia per otto mesi nel 2000. Bongiovanni è morto per un tumore alle ossa ma i conti non tornano, è la 37esima vittima dell'uranio impoverito o la 160esima? Questa signora è sua madre? Questa è mio marito, sì. Qui dove era praticamente? Qui era in Bosnia, a Sarajevo. Stavano facendo delle uscite, come sempre diceva lui. Di che anno non stiamo parlando? 2000, anno 2000, sì. L'ora felice quando è partito, sai, sono felice di essere partito vedendo queste persone che hanno bisogno di aiuto. Sono contento, veramente. Dopodiché, 4-5 mesi di ben preciso così, che era stava già lì. Sai, Salvina, mi fanno male un po' le gambe, non vorrei che il cambiamento di tempo mi stia facendo un po' male. Faccio votarsi, faccio vai dalla guardia medica e vedi un po' che cose ti dicono. Niente, e c'è andato, fanno dato degli antidolorifici. Ma lo teneva un po' così a bate il dolore. Noi subito abbiamo pensato, quello che lui mi diceva, mi fa, sai che cosa si vuole cifere a quattro colleghi che ci sia? Questo cos'è dell'uranio impoverito. E che cos'è? Si è messo poi a spiegarmi che cosa poteva essere questo tipo di uranio impoverito. Certo, noi appena abbiamo riscontrato questo tipo di tumore ci siamo subito allarmati, naturalmente. e da lì è iniziato il calvaglio di Peppa. Sette anni, ma di lotta continua perché è stato straziante per lui, perché erano dolori, dolori atroci. Tanto è vero che poi l'anno scorso, verso settembre, l'ha paralizzato, gli è venuta la paraparessi praticamente. Che tra l'altro ci sono anche tre ragazzi, uno di 19, uno di 16 e uno di 12. Che tra l'altro ha subito dei traumi perché l'ho lasciato, che era piccolo, cioè aveva sei anni il bambino quando abbiamo iniziato a lasciarlo per andare fuori continuamente, perché stavamo più fuori che a casa. E il bambino è stato un trauma per lui, tanto è vero che ne stava avendo delle conseguenze brutte. Ma quanti sono i soldati che si sono ammalati in patria o nel corso di una missione all'estero? In una lettera inviata alla Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, il Ministro della Difesa Parisi parla di circa 1.400 malati in più rispetto ai 255 precedentemente dichiarati. Una missione importante, secondo l'Associazione dei Militari Ammalati, che tiene però conto solo dei cancri conclamati, mentre l'Osservatorio Militare prende in considerazione anche le alterazioni tiroidali che si trasformano sempre in cancro alla tiroide o linfatico o in altre parti del corpo. I militari italiani morti sono invece per il Ministero della Difesa 37, mentre per l'Osservatorio Militare 160. Tutti coloro che vengono congedati o sono deceduti o sono andati in congedo prima dell'esposizione della palesarsi della patologia, che l'ESA avviene a distanza di anni, non sono considerati dalla difesa. Questo può essere la causa anche di una discordanza piuttosto atroce, numeri che danno fastidio perché il Ministro Parisi parla di 37 decessi, il suo predecessore parlava di 42, delle due luna. O c'è una tecnica che evita il conteggio progressivo dei caduti, oppure l'uranio fa talmente bene che prevede una resuscitare dopo la morte, non ho idea. Nell'ultima audizione del Ministro Parisi alla nostra Commissione del mese scorso, quando ci ha letto i dati che gli erano pervenuti dagli uffici che erano stati interessati, lui stesso ha manifestato un certo imbarazzo e ha fatto notare, ancora prima che si chiudesse l'audizione, che i dati non erano plausibili. Guardi, da quando l'esercito o le forze armate sono passate da quelle che era il modello di leva a quello che adesso è il modello professionale, è cambiato praticamente tutto. Questo ha comportato una serie di spostamenti, di archivi da una parte all'altra e a darli adesso a raggiungere comincia a essere decisamente complicati. Questo non significa che i numeri non devono essere dati e non verranno fuori, occorre naturalmente del tempo. Vede, nessuno dà per certo la causa-effetto, neanche il Pentagono. C'è da dire una cosa, che per i paesi occidentali, tranne forse gli Stati Uniti e anche la Gran Bretagna, l'uranio impoverito era considerato un materiale safe, sicuro, non comportante nessun tipo di effetto nocivo su quello che era la salute. Queste problematiche sono emerse semplicemente dopo e non certamente in campo militare. Qual è la sua opinione personale in quanto medico ed esperto del settore? Ci potrebbero essere dei legami tra questi casi di malattie e l'uranio impoverito? E lei mi sta chiedendo a me, medico, uomo di scienza, ripeto, un pensiero, una teoria. Mi dispiace, su queste basi io non rispondo. Non rispondo. Si conosce la tossicità delle polveri di uranio fin dagli anni 50, quindi fin dagli anni 50 si sa che l'inalazione di polveri di uranio può causare problemi quali ad esempio tumori, insorgenza di leucemie, tumori ai polmoni ed altri tipi di tumori. Quindi io credo che sia ormai comprovato il fatto che l'uranio impoverito sia un materiale che qualora ingerito o inalato possa far venire tumori. Chiaramente ne dipende dalla quantità che se ne utilizza. Rapporto causa-effetto. Si parla di un qualcosa, a mio parere, dato per scontato ormai da anni, della pericolosità si parlava già dagli anni 40. Non stiamo raccogliendo altro che l'effetto di ciò che si era previsto anche prima dell'impiego dei militari nei mercati. Io non ho una straordinaria inconcursa fiducia nella neutralità della scienza. Temo che qualche volta quando si avvicinano a ricerche che coinvolgono interessi potentissimi magari gli viene suggerito di distrarsi un po'. È una malignità, lo so, ma insomma io ne sono convinta. Alla fine della mia missione, più o meno all'inizio di marzo, ho avuto, siccome era freddo, c'era stata la neve, l'inverno e tutto quanto, ho avuto un malore alla gola. Quindi mi sono raffreddato, influenzato. Tanto è vero che poi un medico, un medico militare, mi ha visitato e mi ha riscontrato nella placca alle tonzille. Poiché sono andato avanti con un po' di antibiotico prescrittomi, quando sono rientrato poi in Italia mi sono fatto vedere dal medico di famiglia e il medico di famiglia mi ha inviato all'ospedale civile. Dopo varie visite mi è stato riscontrato l'infoma non oggi, che ha grandi cellule, per cui da lì poi è cominciata la cura con chemioterapia e successive radioterapie. Noi abbiamo instaurato delle controversie civili dinanzi al Tribunale di Roma e abbiamo chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale civile, ritenendo che è stato provato da parte nostra il messo di causalità con i vari fattori di rischio, il principale è appunto l'impiego di munizionamenti all'urano impoverito, ha disposto delle consulenze tecniche d'ufficio tendenti a verificare la fondatezza delle nostre tesi. Per cui i processi stanno andando avanti e sono a buon punto. I processi che si sono celebrati fino ad ora sono utili alla Commissione, perché quasi tutti si sono conclusi con la vittoria di chi chiedeva danni. Però appunto è una scelta personale e privata, io non posso seguire questa strada, posso prendere questi risultati anche come ad adiuvandom, per così dire. Però io appunto ho una legge che dica tutti quelli che sono trovati in queste circostanze, in questi periodi e entro dieci anni hanno sviluppato queste patologie, hanno diritto a tutte queste cose e le elencheremo. Gli episodi di vedove con bambini, che gli stavo detto che per il bene dei figli era opportuno fermarsi nell'azione legale, che era meglio evitare di andare in giudizio, così si potevano ottenere dei vantaggi. Insomma, una serie di motivazioni. Non ultima, nell'attuazione del Decreto 243, chi si è rivolto ai legali non ha avuto nulla, chi si è lasciato guidare dai distretti militari e dalla difesa ha ottenuto qualcosa, ovviamente di poco conto. Se noi pensiamo che la famiglia Porvo ha ottenuto 250 Euro per la morte del proprio figlio mensile come contributo, ci si rende conto che è un modo per poter dire bene, io l'ho fatto, ma di fatto non ha alcun effetto pratico. E questo è un dato, mi riferiscono da più parti che c'è questo atteggiamento rivolto a sfiduciare le persone che cercano di avere giustizia. La prima missione della sua vita, perché lui, come tanti altri, andavano là, si dice per la missione di pace, però se il sogno suo era sempre di formare famiglia. Al suo rientro, dopo un 8-9 mesi, sono incominciati i vari dolori e lui si lamentava dalla spalla, più che altro, sai, andava al dottore, controllava, si faceva controllare, però i dolori cominciavano ad aumentare. E gli è stato riscontrato cosa e dove? Allora, lui gli è stato riscontrato il linfoma di Occiking, sotto il cuore, cioè sotto il cuore, dunque non poteva essere operato. Gli hanno fatto le varie cure che si potrebbero fare, terapia, radio, di tutto. E in una delle foto lei mi faceva notare che, appunto, come erano vestiti i ragazzi là. Semplice, anche lui, una volta rientrato dal Kosovo, gli diceva a mio marito, scherzavano con mio marito, perché diceva, strano che a noi ti davano le solite mimetiche, normali, e gli americani erano vestiti in questa maniera, cioè tute, mascherine, cioè uno non può mai pensare, che si va là e loro erano vestiti in quella maniera, e noi eravamo vestiti così, eh? Beh, mi consente di dire che la prima precauzione sarebbe quella di non utilizzare l'urane impoverito, perché ci sono altri tipi di munizionamenti che fanno gli stessi risultati dell'urane impoverito senza essere radioattivi, ad esempio gli armamenti altunsteno. Se proprio si utilizzano armamenti che hanno l'urane impoverito, bisogna evitare soprattutto l'inalazione di polveri, quindi dotarsi di mascherine, quindi evitare i luoghi polverosi, come ad esempio chi lavora con gli elicotteri, come ad esempio chi lavora per la bonifica dei siti dove ci sono stati questi utilizzi di armi, evitare in qualsiasi modo il contatto con il materiale radioattivo. Purtroppo, soltanto dopo, sono venuto a sapere di queste cose, quando ho cominciato a avere dei problemi, mi sono informato sulla situazione che c'era in Iraq e ho venuto a sapere che c'erano appunto state segnalate anche dagli americani le zone più a rischio. Le zone più a rischio, noi avevamo avuto già il sensore di queste zone, in quanto avevamo visto strani movimenti da parte degli americani che prendevano delle cauzioni che noi non abbiamo mai preso per controllare mezzi che erano esplosi e cose varie. Ma che cosa è esattamente l'uranio impoverito? Cosa avviene quando un proiettile all'uranio impoverito colpisce la corazza di un carro armato? Viene scritto che l'uranio impoverito è composto principalmente di uranio 238 con una percentuale di uranio 235 attorno allo 0,2-0,4%, quindi bassamente radioattivo, ma dalle immagini potete verificare che le emissioni di raggi gamma sono consistenti. Dunque, quando i militari ci dicono che questo non è radioattivo è una bugia incredibile. Secondo la relazione del 17 novembre 2004 della Commissione parlamentare di inchiesta leghe di uranio impoverito vengono impiegate come componenti inerti nei proiettili per la capacità di penetrare nella corazza dei carri armati e tale capacità deriva sia dalla elevata densità che dal suo potere piroforico. Ma i conti non tornano. Come può un materiale inerte provocare una temperatura all'impatto di 3.000-4.000 gradi? L'aggettivo piroforico, cioè portatore di fuoco, non spiega la produzione di questa altissima temperatura. Sempre nella relazione della Commissione parlamentare viene scritto che ad una distanza di circa 100 metri dai luoghi dell'esplosione sono stati trovati composti a base di stronzio, carbonio, zolfo, ferro, silicio, piombo e particelle a base di oro, argento e mercurio. Polveri con una composizione chimica nuova rispetto al materiale esistente. Anche in questo caso i conti non tornano. Come è possibile che siano presenti nel luogo dell'esplosione sostanze prima non esistenti? Siamo andati a chiedere aiuto a Martin Fleischman, uno scienziato che già da tempo si è occupato dei processi nucleari non convenzionali. Quali sono i fattori che le hanno fatto pensare che non fosse credibile la spiegazione finora fornita sul modo in cui funziona l'uranio impoverito? Sembra impossibile spiegare l'altissima temperatura che viene raggiunta dentro lo spazio chiuso dei tanks nei termini dell'esplosione di materiali esistenti. E questo è un punto. E sono ora disponibili informazioni sufficienti che indicano che ci sono strani prodotti, prodotti minori dell'esplosione, che penso siano impossibili da spiegare solo con l'esplosione di materiali esistenti. Quindi ritengo che sarebbe sensato pensare a un processo di tipo nucleare. In che senso potrebbe essere spiegato questo processo nucleare? Penso che i materiali osservati nell'operazione dell'uranio impoverito possano essere spiegati in termini di fissione, fissione dell'uranio impoverito. Per quale motivo? L'osservazione dei materiali è coerente con l'operazione del doppio cratere, cioè della doppia esplosione per fissione e per fusione. Quindi se si produce stronzio si deve produrre sempre qualche prodotto con un peso atomico che sia complementare con quello dello stronzio. La presenza dello stronzio può essere spiegata dal processo di fissione dell'atomo dell'uranio, peso atomico 92, che da una parte viene diviso in stronzio, che ha peso atomico 38, e dall'altra in xenon, un gas di peso atomico 54, liberando altissimi livelli di energia. Se la sua ipotesi fosse vera, avremmo un nuovo processo nucleare. Sì, ci è sembrato che le operazioni con le armi all'uranio impoverito sollevino molte domande, e queste domande impongono delle investigazioni prima che queste armi vengano impiegate. pensate che i militari che producono e utilizzano questo tipo di arma siano consapevoli delle proprietà fisiche o sono informati soltanto sugli effetti che queste armi provocano? Penso che non siano molto documentati sulle cause del fenomeno. Loro lo usano come arma. Perché dovrebbero cercare di capire qualcosa di più di quanto non si è richiesto per usarlo come arma. Ma i danni provocati da queste armi sono enormi anche su chi le usa, non solo sui nemici. Sì, beh, è così che va. Se si usano armi il cui modus operandi non è ben compreso, è probabile che si verifichino strani fenomeni che non si è in grado di spiegare. Pensa che vietare l'uranio impoverito sui campi di battaglia potrebbe essere un passo in avanti per evitare danni che durano per generazioni? Di certo credo che sarebbe utile comprendere quali processi si verifichano nelle munizioni all'uranio impoverito e credo che molte di queste informazioni potrebbero essere disponibili se i danni, i danni fisici provocati da queste armi fossero catalogati in modo appropriato. Potremmo fare grandi passi avanti. Abbiamo una commissione parlamentare che sta facendo un'inchiesta sull'uranio impoverito e sui morti che sono stati provocati da questa sostanza. Quali suggerimenti darebbe a questa ricerca istituzionale? Penso che la prima fondamentale questione sia stabilire la distribuzione degli strani materiali prodotti, stabilire la distribuzione nello spazio e nel tempo dei prodotti della reazione e poi pensare a cosa possa essere stato all'origine di questa distribuzione. Ma dopo i Balcani l'utilizzo dell'uranio impoverito è notevolmente aumentato in Iraq. Dal 91 al 2003 sono state usate 2000 tonnellate di uranio impoverito, cento volte in più che nella ex Jugoslavia. Tutti effetti che mi ha visto finora sono relativi alla guerra del 91. La guerra del 2003 cominciava a avere effetti forse quest'anno ma soprattutto negli anni successivi. E ci sono state presenti anche un altro fatto. Nella guerra del 91 l'uranio impoverito è stato usato prevalentemente nel deserto nella battaglia contro i carri armati iracheni. Nell'ultima guerra è stato usato nei centri abitati direttamente nelle grandi città dove la popolazione vive per cui l'impatto sull'ambiente ma sulla popolazione civile sarà decisamente superiore rispetto al passato. Ci sono dicerie e rumori sul fatto che sia stato utilizzato anche in Afghanistan e anche in Libano però al momento non si hanno dati certi su quello che è il possibile utilizzo sia in Afghanistan che in Libano sappiamo sull'Iraq. Poi mi raccontava il direttore dell'oncologico di Bassora lui trovava i commercianti di ferro usato che rivendevano i pezzi dei carri armati bombardati al mercato per cui ormai l'impatto ambientale e soprattutto anche nella catena alimentare è probabilmente irreversibile. Non è possibile che nessuno parli insomma. Ecco allora ci mettiamolo in questi termini qualcuno deve fare qualche cosa perché venga riconosciuto a tutti quanti quelli che si sono trovati che sono nelle mie stesse condizioni ripeto anche per quelli che non possono più parlare quelli che ormai non ci sono più e nessuno ha fatto niente. Noi non so quanti soldi abbiamo speso in questi sette anni sette anni l'ultimo anno non so quanti soldi perché ormai mio marito necessitava dell'infermiere tutti i giorni tutti i giorni però nessuno che ti veniva a dire come stai facendo come fai e come non fai perché mio marito anche era partito facciamo un po' di che ne so vado a fare questa missione magari mettiamo qualcosa da parte per comprarci una casa così ma che casa abbiamo comprato in fece della morte praticamente con questa sua missione. grazie a tutti